Immagino che insomma nel club giallorosso della Grande Vela starà imperversando la festa Eccoli qui, vediamo un po' Ci sentite? Noi non vi sentiamo? Sì, sono molto contenti, devo dire, però non riusciamo ad avere il ritorno alto Tra un po' magari ritorniamo E effettivamente è una vittoria importante, importantissima per la Roma Che, eccoli Eccoli Eccolo Perché, dove sta? Perché, dove sta? Che, dove sta? Che, dove sta? Io non lo so Grazie.